Ciao a tutti ragazzi, oggi ho spesso le mie gemine Allora perché andando, ho fatto due giri, no, tre giri Due giri in tutto, quello gratis e quello è uno con i video Poi ho fatto un giro di questo Vado a sapere che cosa mi è capitato Lo faccio vedere subito Questa, Monarch, quella che ho già Mi è capitata una epica Quale? Quella Adesso però, possiamo fare un giro Di questo Ora se mi capita un'epica che ho già Comunque ci si è vicina dai 98 iscritti Cioè ai 100 iscritti Lo leggendario Lo leggendario Lo leggendario Raga Ho Ho nove Nove Epiche Di cui due Cioè di cui ho trovato il doppione di Questa Questa E questa Ho Due Leggendarie Oh questa è orribile Però è sempre una leggendaria Ma questa Ma questa Ah è troppo bella Poi ci vediamo un video con questa Troppo bella Troppo bella Troppo bella Ciao 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 Ciao